ancora ben trovati dalla redazione di firenze smart in studio agnese fedeli il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della nostra regione per il traffico ferroviario per intervento delle forze dell'ordine segnaliamo che la circolazione ferroviaria è sospesa tra prato centrale e pistoia al momento è cancellato il treno 18 479 lucca firenze da pistoia a firenze i viaggiatori utilizzano il treno 18 525 via reggio firenze cancellato integralmente il treno 18 526 firenze pistoia in questo caso i viaggiatori utilizzano il treno 18 480 firenze lucca buona versi in toscana in fa un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze per ora è tutto buon viaggio